Io ti faccio un filmino, questa è la prima volta che Bruno viene su nel bosco, finora si è fatto un po' di cambi, c'erava problemi renali, ora ha risolto tutto, sta andando a cercare, questa è una salitina dove lei ci trova i funghi mori, io sinceramente non ci ho mai trovato nulla, ma lei sotto questo profilo li trova meglio di me perché va più piano, va più calma, gira da una parte, poi gira dall'altra, guardate la tattica che sta operando, ogni mucchiettino lo alza, per ora comunque penso non ci trovi nulla sotto mucchiettini, comunque arriverà il momento di controllare i funghi e quindi, comunque è una fungaia di quelle come si deve, vedete il passo, il passo piano piano, gira intorno, non è che va a come vado io, vado a chilometri, le va a centimetri, io trovo funghi grossi, lei trova anche quelli, diciamo, discreti, guardate un po', che stile, bastoncino, come si deve, giubbottino da cacciatore, pantaloni giusti, la maglietta a maniche lunghe come si deve per i boschi, questo è il momento che ci sono le zecche, ecco, ora siamo qua, Bruna, buongiorno, benvenuta nei boschi, ora io vado su dove c'è i miei posti dei mori, dove ce li ho lasciati piccoli, vado a vederli, ti lascio qua, tanto te qui sei vicino a casa, ok, un salutino, ciao!